Ciao da Andrea, oggi un grande unboxing, non so se lo vedrebbe, questo, vediamo un po' cosa c'è dentro, è tutto a cartone, qua è quello che ci serve a noi, guardate un po', oh non è possibile, ho già visto che c'è qualcosa che non va, vedete che qua si è piegato, vedete, non è piegato, deve aver preso colpi, vediamo un po', Sky Wi-Fi, Illumia, Lincoln, il marchetto di fiscali, e poi prosegue con fiscali, Speed, firma elettronica qualificata e il simbolo della PEC, praticamente questo va messo così, ve lo faccio vedere, lo posiziono, sta con la camera, così ve lo posso far vedere, innanzitutto va messo qui su, al posto di questo, e questo va a finire così, Sky Wi-Fi, Illumia, Lincoln, Tiscali, Speed, PEC e firma elettronica qualificata, cosa ne dite? Quindi eliminiamo il vecchio, questo, e teniamo il nuovo, che ne dite? Peccato è un po' rovinato, adesso bisogna togliere questo, e rimettere questo, cosa ne dite? Per la tua fibra, per tuo Sky Wi-Fi, per Tiscali, per Lincoln, ma anche per fare Speed, PEC e firma elettronica qualificata, e per fare anche il cambio delle bollette, questo, ti aspetto da me in piazza Descrivel a Cagliari, ciao da Andrea, ciao ciao!